Child Food, ricette per giovani culinary explorers, è un libro che coinvolge 23 grandi chef da tutto il mondo, tra cui Massimo Bottura, Dominic Crenn, Gagan Anand, Francis Malman e altrettanti illustratori, tra cui i grandissimi Pascal Campion, Nicholas Smith e Giacomo Bevilacqua. Un melting pot di culture, tradizioni e sapori. Penso che il cibo possa unire le persone e far guardare alle diversità come un'opportunità e non come una minaccia. E con Child Food ho unito le mie due passioni, la scrittura e il food, creando uno strumento che avrei tanto voluto avere quando ero piccolo. Child Food offre ai bambini la possibilità di creare ricordi ed esperienze da condividere con i loro genitori, o tutori, fratelli e sorelle più grandi, e abbracciare la diversità, creare legami forti, costruire ponti e abbattere i muri, contro il razzismo, l'ignoranza e l'intolleranza. Un progetto innovativo che è stato possibile creare ricorrendo al crowdfunding. Il 25% dei fondi raccolti, inoltre, è stato donato all'associazione senza scopo di lucro Charity Water. Grazie alle prime copie vendute, oggi già 300 bambini in più hanno avuto accesso ad acqua pulita. Un progetto innovativo, dicevamo, così come innovativa è la nuova Mirrorless Fujifilm XS10. Una camera piccola e maneggevole, versatile e veloce, molto intuitiva. Insomma, una macchina ottimale per la produzione di materiale fotografico e video per un progetto come Child Food. Noi l'abbiamo utilizzata per catturare momenti di interazione dei bambini nella preparazione e nella condivisione del cibo. È come supporto ideale che ha affiancato la medioformato Fujifilm GFX 50S per una parte fondamentale del libro, ossia per la realizzazione delle fotografie dei piatti preparati grazie alle ricette contenute in esso. La Fujifilm XS10, per nulla ingombrante, è stata la compagna perfetta per questo lavoro. Con discrezione ha posato il suo obiettivo nella cucina dello chef Matteo e del suo staff, catturando momenti intimi, altri di frenesie e velocità, altri ancora di precisione e delicatezza. Child Food è come se fosse una metastoria, una storia nella storia. Racconta di viaggi incredibili delle materie prime culinarie nel tempo, di chef che hanno portato la cucina diventare forma d'arte, di illustratori che dipingono idee, ma soprattutto del riscoprire la qualità dei legami tra persone, fonte inesauribile di felicità. E la nuova Fujifilm XS10 è stata la partner giusta per raccontare tutto questo.